Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, breve video straordinario perché è veramente straordinario questo video Allora, c'è una foto che circola sul web, mi è stata passata, ovvero il direttore sportivo del sito è stato visto a pranzo con Paratic Ora, bisogna capire innanzitutto la veridicità di questa foto, se è una cosa che è successa oggi, ieri a pranzo o in qualcosa di vecchio che viene riutilizzato come fake news per far impazzare un po' il web che è una cosa che capita molto molto spesso di questi periodi, soprattutto in ottica calcio a mercato basta poco per infiammare la gente e basta poco per rendere virale una cazzata quindi non vi voglio illudere, però c'è questa foto e da qua ci sono due riflessioni da fare La prima, Pep Guardiola? C'entra veramente qualcosa a Pep Guardiola? Se c'entra qualcosa sta a significare che la Juventus ha parlato con Pep e Pep ha dato risposta positiva a venire alla Juve per cui società con società si accordano su eventuali penali, clausole da pagare se c'è stato veramente questo incontro e se sempre che si parli di Guardiola cioè quindi la Juve sta tentando di capire come può liberare Pep Guardiola dal Manchester City questa è già una mezza notizia, però ovviamente dobbiamo capire se veramente questo incontro c'è stato perché se non c'è stato stiamo parlando di aria fritta la seconda ipotesi è che è quella un po' più deludente, penso anche per voi si parli di calcio a mercato, quindi la Juve ha obiettivi nel Manchester City o viceversa? Di Bala? Non lo sappiamo? Douglas Costa? Chissà? Non lo sappiamo ragazzi, fatto sta che se avete notizie e se avrò notizie a riguardo ve le porterò immediatamente come ho fatto adesso sul canale ora non illudetevi, vi prego non illudetevi perché questa foto può essere veramente anche una cagata severa, capiremo col tempo che cosa è successo, che contatti ci sono stati tra i due e che cosa si saranno detti però veramente ragazzi, piedi per terra perché altrimenti rischiate di rimanere molto molto delusi un po' come Cristiano Ronaldo immaginate, vi ricordate un po' l'euforia eccetera immaginate a un non arrivo di Ronaldo cosa avrebbe causato depressione totale quindi ragazzi, relax prendete questa notizia con le pinze come è giusto che dobbiate prendere queste notizie di mercato sempre così con le pinze proprio per non illudervi e basta, questo è tutto iscrivetevi al canale, clic 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 come dice qualcuno fate i bravi e sempre fino alla fine Forza Juventus Forza Juventus Forza Juventus Forza Juventus